di Totti straordinario su calcio di punizione e poi ci sta quell'altra di ritorno che invece ci fu Inter Roma 3 a 1 doppietta straordinaria di di Recoba però questa è un'altra storia salutiamo Maxi Morgante buona niente a Totomo è arrivato qui in studio vi ha ascoltato da sopra ci ha ascoltato da sopra sì 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 serata caldissima Maxi questa qui molto calda perché abbiamo acceso i termosifoni no ma fa anche caldo Moroni è in maniche corte Federico ha un bellissimo completo nero azzurro io sono in blaugrana sono vestito in tema stasera esattamente chissà il nostro Davide Di Cosmo che è su a preparare le sue a preparare le giocate insomma come è vestito ecco non lo annuncio via senti Alà io visto che sei qui possiamo affrontare anche un pochino l'argomento dei vari campionati perché noi non abbiamo ancora aggiornato insomma le stiamo parlando avete parlato molto delle partite di bravissimo bravissimo nel campionato italiano quindi Chievo Lazio ho sentito Marco Misseri mentre con Davide venivamo qui in studio Roma Inter Roma Inter con Valerio abbiamo un po' sottovalutato ma solamente perché comunque adesso ne parleremo Juventus Torino che è il gran derby della mole e poi parliamo anche di tutto il resto dei campionati europei perché sguardo alla Premier League ma sguardo anche alla Liga Spagnola sappiamo che Maxi è appunto tifosissimo del Barça segue moltissimo anche lui la Liga Spagnola quindi vediamo un po' le partite più interessanti di questa di questa settimana e intanto ti do l'aggiornamento che fa la Real Societad? Vince 2-0 all'intervallo contro l'Elce contro l'Elce l'Elce quest'anno non lo salva nessuno quest'anno non lo salva nessuno per quello che riguarda invece la giornata di domani a parte il nostro campionato che abbiamo Sassuolo-Verona alle ore 18 Chievo Lazio abbiamo detto alle 20.45 oltre alla sfilza delle partite di Serie B che non vi sto elencare ma tutte comunque alle ore 15 abbiamo anche partite interessanti in Inghilterra e in Bundesliga perché abbiamo l'Arsenal che va a giocarsela alle 13.45 in quel del campo del West Bromwich West Bromwich Albion esatto e Liverpool Stock City con Manchester United contro Al City e poi abbiamo il Chelsea che chiude la giornata alle 18.30 in quelle del campo del Sunderland quindi campo difficile però comunque il Chelsea è uno schiaccia sassi l'abbiamo già visto tutti Liverpool Liverpool anche domani non vince il Liverpool la situazione si fa drammatica un po' come il Dortmund perché mi dici dove gioca il Dortmund il Dortmund perché il Dortmund è terzo ultimo in classifica ragazzi il Dortmund terzo ultimo questa la bomba di Maxi Morgante che ce la dice alle venture 46 poco da fa poco da bombardare va a giocare contro l'Eintracht di Francoforte alle ore 17.30 della giornata di domenica Borussia Borussia gioca gioca cioè gioca sta giocando col fuoco perché poi qui non si vede luce per questa squadra attenzione è terzo ultimo e Liverpool se domani non fa risultato a casa con lo Stoke invece diventa problematica anche per il Liverpool questo io l'ho detto anche sia domenica in extra time sia lunedì che il Liverpool è a metà classifica e non riesce a fare punti e poi comincia ad essere problematica poi vi dico anche un'altra cosa la vediamo dopo perché ci sono in questa giornata settimana prossima ci sono due turni infrasettimanali cioè due campionati cioè un turno infrasettimanali e due campionati che è la Bundesliga credo no la League One e la Premier mentre in Italia non ricordo se in Germania anche ma in Italia e in Spagna c'è la Coppa quindi c'è la Coppa Italia la Lazio sempre gioca mi sembra mercoledì alle 16 contro il Varese e il Barça invece gioca mercoledì a non ricordo dove guarda ti dico subito me la lanci così mercoledì abbiamo come partite di Coppa Italia Adalanta Avellino Empoli Genoa e Udinese Cesena quindi la Lazio la Lazio gioca martedì la Lazio esatto gioca martedì alle ore 16 contro il Varese in casa tanto lunedì andiamo in onda e poi ne parliamo però ecco io volevo fermarmi su questa cosa della Premier perché la Premier gioca anche mercoledì e quindi il Liverpool secondo me se fallisce la partita a casa con lo Stokers domani e comincia a essere poi la classifica poco poco interessante per ambire ai piani alti ma molto problematica per i piani bassi sapendo che non sa se verrà eliminata completamente dall'Europa e perché si gioca tutto tra Basilea Ludo Goretz e Liverpool mi sembra che sono quattro punti il Basilea tre Ludo Goretz e tre Liverpool quindi anche lì è tutto aperto c'è il rischio che stia fuori come c'è il rischio che vada in ai ottavi di finale di Champions League quindi insomma il Liverpool vive una situazione un po' un po' strana per quanto riguarda il resto della Premier Federico il resto della Premier vede il Chelsea ormai lanciato però c'è il Southentum che non ha perso il turno precedente ha pareggiato il Monday Night e quindi sta sempre lì e adesso però ha una partitaccia però ecco gioca con il Manchester City alle ore 14 e 30 di domenica a Southentum in casa a Southentum però poi dopo mercoledì se la va a giocare contro l'Arsen al fuoricasa quindi ha due partite difficilissime 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 staremo a vedere staremo a vedere il Chelsea comunque rischia io sono convinto che se continuano così il Chelsea rischia di chiudere la faccenda un po' come il Bayern Monaco dopo Natale e lo United di rientrare anche a giocarsela per il secondo posto se il City non fa risultato domani e se l'Arsen continua questa sua altalenanza e l'Iverpool ormai è molto dietro c'è il rischio veramente che il Chelsea chiude i giochi dopo Natale subito dopo Natale e che lo United il Manchester United che sta cominciando a prendere una sua compattezza di squadra possa addirittura arrivare incredibilmente secondo in campionato anche qui dipenderà molto da quello che farà il City se passerà il turno se andrà in Europa League o se verrà eliminato totalmente senti ma invece io ti volevo chiedere un parere su quello che sta accadendo nella Liga perché andiamo a vedere un pochino anche le partite vai dici le partite di domani e di domenica io le so poi dille chi ci ascolta allora per chi ci ascolta le partite di intanto iniziamo con le partite di sabato e abbiamo Getafe Athletic Bilbao alle ore 16 ma alle 18 Spagnolo e Levante con Malaga Real Madrid alle ore 20 chiude alle 22 Celta Vigo e Iabar quindi allora analizzando le partite che ci sono domani tutti noi speriamo che il Malaga possa fare quello che ha fatto al Barca cioè alla Rosaleta cioè fermare il Real Madrid come fermarlo il Real Madrid beh fermarlo anche sullo 0-0 dipenderà molto da come sta il Real Madrid dipenderà molto da come se si scansano i giocatori del Malaga il portiere perché c'è anche questo altro fattore che sta un po' determinando la Liga che Real Madrid merita il primo posto Real Madrid merita tutto quello che sta meritando però sta di fatto che l'impressione che si dà in giro è che chi incontra Real Madrid già pensa alla prossima partita e quindi come se sa che deve perdere non gioca non gioca come dovrebbe giocare parlo di tutte le squadre che non sono quelle di vertice però io confido molto nel Malaga e spero spero che possa fermare il Real Madrid la vedo difficile le partite di domani io segnalo Levante e Spagnolo e Spagnolo e Levante mi sembra che sia al Corneial Prat di Barcellona perché perché l'Espagnolo rischia di essere di stare sta lottando per un retrocede il Levante dopo la vittoria nel derby contro il Valencia di sabato di domenica scorsa si è tirato su e beh insomma io dico che attenzione perché se se l'Espagnolo non fa risultato contro una diretta concorrente quest'anno potrebbe essere l'anno buono che retrocede l'Atletic Bilbao è tornato alla vittoria sia in campionato che in Champions e attenzione che se la squadra di Valverde si è finalmente sbloccata e si è tolta un po' ci stanno notati dei problemi per esempio Michel Sancosè uno dei pilassi della difesa dello scorso anno ha fatto 5 partite quest'anno in tutto si dice che c'è un po' di problemi nello spogliatoio con l'allenatore con Valverde e quindi Michel Sancosè che era un senatore della vecchia guardia con tutto che credo che ci abbia massimo 27 28 anni quindi non è vecchissimo però è stato un po' messo da parte questi giovani non stanno ripetendo lo stesso campionato dell'anno scorso tranne quelli che piacciono a me i tre cioè Mugnain i Turraspe e Laporte il francese Basco Laporte anche se però quest'anno ovviamente hanno avuto una grande pressione però se l'Atletico è ripreso a vincere se fa risultato a Madrid contro il Getafe beh e allora attenzione perché l'Atletic potrebbe rientrare clamorosamente non ovviamente nel giro magari tornare su fino ad arrivare in Europa per quello che riguarda invece la domingo la giornata di domingo è il domingo è il domingo e abbiamo alle ore 12 l'Atletico Madrid che se la gioca contro la Corugna ecco quella è uno fisso esatto una Corugna disastrosa deportivo il super depor è disastroso quest'anno rischia di ritornare immediatamente nella Liga delante cioè nella 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 seconda divisione poi l'Atletico in casa è uno schiacciasassi è una macchina quasi perfetta insomma ho sbagliato una sola partita quindi quindi uno fisso e poi dopo dimmi vai dici l'arte che arriviamo fino a 12 delle 21 delle 17 il Siviglia che è caduto in Europa League che è caduto in Europa League ma è caduto anche 5 ha preso 5 gol a Camponuo sabato scorso dal Barza vedi contro il Granada però se la va a giocare in casa se la gioca se la gioca a Satchett Pizzuan vi interrompo un attimo terzo con Real Sociedad sapete chi è il nuovo allenatore della Real Sociedad da due settimane a questa parte sinceramente no Moroni prova ad andarla a cercare non glielo facciamo cercare io non lo so è David Moses ma dai l'ex allenatore dell'Everton del Manchester United hai capito e sta vincendo 3 a 0 si sta diciamo riportando certo contro l'El c'è ragazzi eh sì l'El c'è l'El c'è uno dei candidati a riducere e poi abbiamo che hai detto scusa Siviglia Granata Siviglia Granata è un altro uno fisso secondo me il Siviglia vince dopo queste sconfitte perché anche perché il Granata non è che sia grandissima cosa senti invece alle 19 Cordoba Villareal e alle 21 chiude la partitissima eh questa è una partitaccia quindi ti faccio una domanda sì se il Madrid vince a Malaga e il Barca non vince a Valencia esatto esatto mi ha anticipato perché Valencia a Barcellona chiude appunto la domenica domenica sera coi botti ragazzi domenica sera io non vedrò ovviamente Roma-Inter e Valencia a Barcellona non lo so allora il Barca viene arriva bene a questa partita arriva bene perché si è scollato di dosso questa mini crisi che ha avuto dopo la sconfitta al Bernabeu è arrivato bene con i cinque gol di Friati a Siviglia a Camponove la partita non è assolutamente semplice perché Siviglia comunque era una squadra che stava lì davanti una squadra che aveva prodotto anche un bel calcio esatto viene da un'altra bella prestazione in Champions League viene da questo momento magico di Leo Messi che fa tre gol a partita sia in Europa che in campionato e viene dopo cinque partite quattro assist perché io ci metto anche quella di Champions giù ad Amsterdam ma in campionato quattro partite tre assist per il pistolero per il nostro grande charrua Luis Suarez che sta facendo un campionato secondo me queste cinque partite ha fatto vedere che è un fenomeno esatto è un fenomeno anche perché anche perché con tutto il mio grande cioè io sapete che sono uno di quelli che è un un apostolo del dio del football cioè di Leo Messi però insomma io penso che mercoledì in questo turno di Champions il bel gol del turno l'ha fatto Luis Suarez per come se per come ha costruito quel gol cioè come se ne è andato davvero centravanti come si è smarcato come ha portato avanti la palla e come poi ha tirato ovviamente non glielo daranno mai perché si si cercano anche la spettacolarità del gol non solo la preparazione